Bene, allora ci troviamo con i ragazzi della comunità Vivere di Piazza Almerina abbiamo fatto un bellissimo giro qui nella Piducchiosa oggi è una bella giornata, non tanto calda, meno male, ma bella ci siamo divertiti e adesso chiediamo un po' com'è andata lì sul braccio vediamo i segni di questa... ecco, adesso faccio un'inquadratura, eccolo qua perché il giro è stato in mezzo alla natura allora partiamo proprio da Cristian, vai Cristian sì, dando ciao a tutti, è stata un'avventura diciamo una bellissima avventura noi veniamo come sapete da una comunità queste sono splendide occasioni per appunto vivere la vita in lucidità capire esattamente come... ci sono migliaia di modi per stare bene, in compagnia per vivere la natura, per essere un tutt'uno con la natura per mettersi anche in sfida con te stesso per vedere con la propria forza di volontà cercare di superare i propri limiti e questo ti fa stare bene infatti consiglio un po' a tutti di fare questa fusione diciamo tra sport e natura è una cosa che fa stare bene ti può dare solo qualcosa di bello e quindi ci sentiamo molto meglio adesso bene Cristian sì, sì, è vero meglio sport all'aperto meglio sport in mezza natura e adesso ecco qui passiamo al... Massimo ma Massimo, sei tanti un micro tutto vai Massimo grazie, ciao a tutti io sono Massimo niente, volevo confermare questa bellissima esperienza che abbiamo condiviso oggi tutti quanti niente, il contatto con la natura è stata una bellissima esperienza e come diceva Marco ho preso molto dalle sue parole quando dice che la vita ci sono delle salite e delle discese proprio come nella bici le salite ti fanno crescere mentre bisogna stare attenti alle discese che a volte vai a sbattere il gugno come dice lui un saluto a tutti e un abbraccio ciao bene, benissimo bravissimo Angelo da parte nostra ringraziamo tutti i ragazzi dei Vivere di Piazza Almerina e ci vediamo alla prossima tappa ciao ciao bella, bella, bella bravi, bravi bene ora poi dove si vede